Pioggia battente a Leporano, una pioggia che però non ha impedito all'ex premier Giuseppe Conte di prendere parte al corteo con cui la cittadina ha voluto rendere omaggio alle vittime del lavoro. Tutti hanno atteso con ansia il leader del Movimento 5 Stelle, il presidente che ha guidato il paese durante la pandemia. Suo messaggio qui a Leporano in questa giornata? Sì, sono stato invitato, c'era una manifestazione per i morti sul lavoro e aumentano terribilmente. Siamo quasi a tre morti sul lavoro, morti bianche dall'inizio dell'anno e quindi dobbiamo assolutamente, la politica deve prestare attenzione a questo grave problema. Ma c'è un problema complessivo, dobbiamo intervenire su vari livelli, formazione, sicurezza, maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, contrastare anche il precariato che molto spesso è all'origine, anche contribuisce sicuramente a questa lievitazione delle morti. A Leporano a rendere omaggio alle vittime del lavoro insieme a Giuseppe Conte il senatore Mario Turco. Non possiamo accettare vittime ancora sul lavoro, il tema della sicurezza deve essere centrale nell'agenda di governo e qui a Taranto piangiamo tante morti sul lavoro, tante vittime derivante anche dal problema dell'inquinamento. Bagno di folla per l'ex premier ed il senatore Mario Turco a Sava, dove la tregua dalla pioggia ha concesso a tutti di poter incontrare personalmente e stringere la mano ai vertici del Movimento 5 Stelle.